Il viaggio è finito, la missione no, ora soprattutto che la pandemia rinfocola egoismi e paure dello straniero. Share the journey, cioè condividi il viaggio, campagna di Caritas internazionale lanciata quattro anni fa da Francesco, ha ispirato infinite occasioni di incontro e conoscenza fra migranti e comunità locali. Si concluderà ufficialmente il 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato. Intanto tutti possono accendere una candela virtuale su caritas.org e lasciare un messaggio che sarà consegnato anche al Papa. Poi, dopo la pandemia, quando la povertà dilagante spingerà la gente a partire, prevede Aloysius John, direttore di Caritas internazionale, non servirà a chiudere le frontiere. I migranti non sono numeri, ma persone con nomi, storie, sogni per il futuro. È quel che Share the journey ci ha aiutato a capire, dice il cardinale Tagle, con lo sguardo puntato soprattutto sull'Asia. Sono i gesti d'amore più che le parole ad annunciare il Vangelo laddove il cristianesimo e minoranza spiega. Le migrazioni poi sono anche un grande movimento missionario. Sono i Filippini miei connazionali, dice ancora, che in Europa riempiono le chiese e siccome anche lui è nipote di un migrante cinese, stati attenti, conclude sorridendo, a non respingere il nonno di un futuro cardinale.